Ecco il cambio fuori Alessandro Del Piero e allora adesso l'unica colonna sonora deve essere lo stadio è un momento storico, dentro a Piero e fuori Del Piero, eccoci qui le strette di mano degli avversari, le braccia verso l'alto questo giocatore è di tutti, è di tutto il calcio italiano, è di tutti quelli che vanno il calcio è di tutti quelli che vanno il bello, è di qualsiasi bambino quando comincia a giocare a pallone quando distintivamente rincorre un pallone, sogna di essere un grandissimo sogna di essere un modello in campo e fuori 704 presenze, 289 gol, sempre dalla stessa parte, sempre con la stessa maglia grazie a tutti 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 grazie a tutti